Tutti conoscono questo insetto. Il suo canto ci accompagna per tutta l'estate. Si tratta della cicala. La cicala appartiene all'ordine dei rincoti, lo stesso delle cimici e degli afidi. È famosa per i suoi canti estivi che molti considerano fastidiosi. Vi siete mai chiesti però come mai fa questi suoni? In realtà sono soltanto i maschi che cantano e lo fanno per attrarre le femmine. Le cicale hanno fretta di riprodursi perché hanno una vita breve. La cicala italiana ad esempio può vivere solo poche settimane da adulta, mentre può arrivare fino a 4 anni da larva. Alcune specie invece come la magicicada septemdecim possono arrivare a vivere 17 anni sotto forma di larve. Ma come fanno questi insetti a produrre un suono così assordante? I maschi nell'addome hanno delle fasce di muscoli tensori che producono una vibrazione. I timballi aumentano la vibrazione e le fasce periferiche amplificano ulteriormente il suono. Rendendolo audibile anche a grande distanza.